George Adamski in prossimità del deserto dell'Arizona aveva incontrato un uomo, un essere umano, giovane e bello, di bell'aspetto, e gli aveva comunicato questo, siamo preoccupati per quello che sta succedendo sul vostro pianeta, sul vostro pianeta, quindi George Adamski ha incontrato un essere umano che viene dal regno di Dio che abbraccia l'universo e si è manifestato con un'astronave. Adesso vediamola. Ezechiele 1 La parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, figlio di Buzzi, nel paese dei Caldei lungo il canale Kebar. Qui fu sopra di lui la mano del Signore. Io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinio di fuoco. Una grande nube e il fuoco. Le ruote avevano l'aspetto e la struttura come di topazio e tutte e quattro la menesima forma. Il loro aspetto e la loro struttura era come di ruota in mezzo a un'altra ruota. La loro circonferenza era assai grande e i cerchi di tutte e quattro erano pieni di occhi tutti intorno. Quindi Ezechiele si trovava sul fiume Kebar e ha visto una nube che emanava fuoco e questa nube si è avvicinata. Ezechiele ha descritto la forma di questa nube. Lo ha detto lui, è scritto qui. Che cos'era? Era una circonferenza, cioè un cerchio, e all'interno c'erano delle ruote più piccole, cioè degli altri cerchi. Adesso vediamo l'astronave che ha fotografato Giorgia Damsky, che vi ho citato prima. Che cosa vediamo? Vediamo una circonferenza, un cerchio, e all'interno vediamo altri cerchi. Possiamo dire che sono altre ruote all'interno. Poi Ezechiele che cosa ci ha detto? Che in queste nube c'erano degli occhi, vari occhi tutto attorno. Alla base dell'astronave che ha fotografato Giorgia Damsky vediamo delle sfere che ricordano dei bulbi oculari. Quindi le caratteristiche dell'astronave di Giorgia Damsky combaciano bene, combaciano molto bene con la descrizione che ha dato Ezechiele di questa nube che aveva visto 2400 anni fa. Soltanto che 2400 anni fa era una società agropastorale, non avevano i termini adatti per descrivere quello che vedevano e quindi dicevano la circonferenza, la ruota dentro la ruota. Però capiamo che Ezechiele aveva descritto un'astronave. Questo che vedete nell'immagine è il giovane che ha visto Giorgia Damsky. E adesso, soprattutto nel mondo cristiano, tutti mi salteranno addosso e diranno no, sul Vangelo non è scritto che esseri umani che vengono dall'universo si sono manifestati ad esseri umani di questo mondo. Non è scritto questo. Assolutamente no, assolutamente no, non è vero, non è assolutamente vero. Tobia 5. Uscì Tobia in cerca di uno pratico della strada che lo accompagnasse nella media. Uscì e si trovò davanti l'angelo Raffaele. Non sospettando minimamente che fosse un angelo di Dio, non sospettando minimamente che fosse un angelo di Dio, gli disse di dove sei o giovane? Genesi 19. I due angeli arrivano a Sodoma sul far della sera, mentre Lot stava seduto alla porta di Sodoma e disse, miei signori venite in casa del vostro servo, vi passerete la notte, vi laverete i piedi. Gli angeli che si lavano i piedi. Egli preparò per loro un banchetto, fece cuocere gli azimi e così mangiarono. Mangiano. Gli abitanti di Sodoma chiamarono Lot e gli dissero, dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte. Fagli uscire da noi perché possiamo abusarne. Quindi Tobia aveva incrociato un angelo, aveva incontrato un angelo e l'ha scambiato per un essere umano, un giovane qualsiasi. Non ha riconosciuto che fosse un angelo. Infatti gli ha detto, ma di dove sei o giovane? Di dove sei o giovane? Non l'ha riconosciuto. È scritto qui, è scritto qui, questi sono i nostri testi sacri. E i due angeli sono andati a Sodoma e Gomorra, sono andati da Lot. E cosa hanno fatto? Si sono lavati i piedi, hanno mangiato la schiacciata, hanno bevuto. E poi che cosa è successo? Gli abitanti di Sodoma e Gomorra erano dei pervertiti, allora sono andati da Lot e gli hanno detto dove sono i due uomini, non i due angeli, i due uomini che sono entrati da te stanotte. Non i due angeli, i due uomini. Perché? Perché volevano abusare di loro, quindi erano proprio in carne ed ossa questi due angeli. Quindi sul Vangelo è scritto che gli angeli che vengono dal regno di Dio che abbraccia l'universo si sono manifestati qui in questo mondo come dei giovani belli in carne ed ossa. George Adamski, che cosa ci ha detto? Che un essere che viene dall'universo si è manifestato tramite un uomo giovane in carne ed ossa. Quindi il racconto di George Adamski concorda perfettamente con quello che c'è scritto sui testi sacri, nessuno me lo può discutere. Poi George Adamski aveva parlato naturalmente con questo essere e questo giovane di bel aspetto gli aveva detto noi nell'arco della vostra storia siamo intervenuti varie volte abbiamo compiuto dei prodigi. Abbiamo compiuto dei prodigi e qualcuno di questi prodigi è stato scritto nei vostri testi sacri, nella Bibbia. Poi George Adamski ha scritto un libro, su questo libro ha riportato dei dialoghi che ha avuto con questo giovane uomo e poi ha scritto che lui ha parlato con un consacrato della chiesa cattolica e questo consacrato conosce tutto questo argomento. E poi cosa ci ha detto George Adamski? Che la manifestazione di questi dischi volanti indica il compimento delle profezie. Giaccarei, apparizioni del Brasile, 2014. Mio figlio tornerà in breve con i suoi angeli per trasformare tutta la terra come Giovanni Battista diceva anch'io vi dico convertitevi. L'ascia è già posta alla radice degli alberi ogni albero che non dà buon frutto sarà tagliato e citato nel fuoco. Così io vi dico seguite la scuola di amore e di santità che vi ho dato qui. Preparatevi perché il Natale di mio figlio Gesù nella gloria è molto prossimo a voi. Gli eventi decisivi, quindi di compimento, stanno venendo verso di voi. Tutto quello che vi ho annunciato in passato si addempirà. Luz de Maria, 2013. L'istante degli istanti è talmente prossimo che quelli che vivono infangati nel rumore mondano non riescono a capire quanto si avvicino e quanto lo siano gli eventi. Continuate a guardare verso l'alto poiché io verrò per i miei figli, per salvare il mio popolo con il mio amore e la mia verità. Giampilieri, apparizioni Sicilia, 2006. L'uomo è così stolto da non accorgersi di niente. Ancora poco tempo ci sarà. Prima del mio ritorno. Tutto è scritto. Tutto sto scrivendo ma ancora non basta. Persone pensano di conoscere. Persone pensano di conoscere. Con presunzione giudicano ed operano con parole stolte che vengono interpretate come veritiere. Giustizia sarà perché la verità e l'amore trionferanno su tutta la terra. Quindi non soltanto George Adamski ma anche i messaggi mariani indicano il compimento delle profezie. Siamo arrivati al compimento delle profezie. Che cos'è il compimento delle profezie è la seconda venuta di Gesù. Cioè Gesù sta tornando sulla terra come giudice giusto. Quella parte dell'umanità che seguirà l'anticristo sarà esiliata da questo mondo. Invece quella parte dell'umanità che seguirà veramente Gesù Cristo e non accetterà l'opera dell'anticristo sarà premiata ed erediterà il regno di pace che sta venendo qui su questo mondo. Quindi il messaggio che ci hanno dato alcuni, non tutti, alcuni contattati concorda perfettamente con quello che c'è scritto nel Vangelo e con quello che dice la Madre Celeste. Vangelo e con quello che dice la Madre Celeste. Vangelo e con quello che dice la Madre Celeste.